ciao a tutti ragazzi e benvenuti su stealing the diamond allora ragazzi questo gioco sarebbe tipo un gioco di stickman e penso che ci siano vari finali perché da come ho visto dall'immagine del gioco a quando vale potremo fare delle scelte con la quale possono essere positive che negative quindi andiamo immediatamente allora c'è il signore che sta dicendo secondo me il fatto del diamante che costa chissà quanto di soldi appunto appunto noi già prendiamo le auto quindi perfetto andiamo a rapinare allora potremmo fare sneaky sneaky perché ragazzi meglio evitare di farci beccare allora cosa potremmo scegliere proviamo queste dai ragazzi vai e vabbè riproviamo dove vai dove vai vabbè abbiamo fatto un tuffo nell'acqua va bene allora l'antigravità potremmo accendercelo e andarcene sopra per poi spegnercelo si però spegnilo zio a lui è sempre piaciuto andare nello spazio sto tizio a questo punto proviamo un po' i teleporter ma tanto sto sicuro che andiamo male infatti ok no 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 allora c'è una guardia proviamo questa cosa perché ragazzi noi con questa possiamo farci E che cavolo nooo no no vai con facco al pancio allora hai tirato una scureggio praticamente a posto di facco al pancio andiamo in invisibilità a sto punto raga io un po' le provo tutte perchè essenzialmente vediamo un po' perchè allora la monedina penso che era un po' scontata ecco ah non ci vedevamo più ma va allora piglia da sto soldo va piglia da sto cavo di soldo intanto sei visto il tizio che allora come potremmo prenderlo? col portagano non penso che dato che il diamante pesa potremmo andarci a finire noi male no groppo penso che ci faremo male i cani però proviamo raga mai dire no mi ha dato una capocciata che è appunto allora questo raga è rimasto rimane solo questo da fare perchè seriamente groppo 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 a sto punto un bel martello perchè giustamente un martello distruggi un bel veicolo senza fare rumori senza fare niente allora il cannone potremmo andarci a finire veramente male proviamo la plank va oppla ok ce l'abbiamo fatta raga usciamo allora vediamo un po' snape snack che cos'è sta roba proviamo ma cosa cavolo stai combinando ma cosa cavolo hai combinato allora provo con i diamond a sto punto minchia l'ha ucciso e andiamo prima missione completata allora io a sto punto allora abbiamo un motorino quindi avremo molta possibilità di distruggere la porta ma che cavolo ma seriamente un monopattino no 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 ah no ok ho fatto giusto vediamo dove è sbagliato raghi salve buongiorno buonasera questa vai 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 ma che cazzo lo salve riproviamo vai con l'arancia mamma mao e allora con lo scuto che ti posso dire abbiamo provato tutto buonanotte il diamante è buggato giustamente usiamo questo va intanto che pesa i nuovi tizi di prima quelli che non ci hanno proprio visto poco fa capisco tutto oddio due stelle che è gta roccia dai una bella roccia in faccia si raga è gta è gta che cazzo scelgo qua oddio salve la bolla bolla potete la bolla difendimi oh porca vacca ok ce la siamo svignata e mo che facciamo che facciamo non possiamo renderci raga questo ci ammazza ok cliccando i diamanti siamo dovuti sacrificarci cioè siamo morti no siamo vivi che chi è ui diamante vabbè ragazzi io direi che questo video è tutto spero comunque il video vi possa piacere raggiungiamo come sempre i 10 like se volete altri video di giochi di stickman come avrete perché ne ho trovati ancora molti quindi fatevi sapere qui sotto nei commenti se volete altri giochi del genere non ci vediamo prestissimo un nuovo video e ciao a tutti